Ciao raga, Monkey D. Dragon è stato a God Valley o meglio, ha partecipato alla battaglia di God Valley? Dragon è uno dei personaggi più misteriosi all'interno del mondo di One Piece. C'è chi dice che è fortissimo e importantissimo e c'è chi invece crede sia una grandissima scammata. Ed è dai tempi di Rockdown che le teorie si sprecano e vanno avanti. Dalla roggia del vento, dall'essere o possedere Uranus, fino alla possibilità che non sia davvero il figlio di Garp. E qua mi ci butto in mezzo anche io perché comunque molto tempo fa parlai di questa teoria, teoria che nessun canale italiano trovai e che poi tre mesi dopo fece anche O'Hara. E ok, non dovrebbe essere motivo di vanto il fatto che l'abbia fatto anche lui, però se da quel video là in tanti hanno iniziato a parlarne, forse qualcosa di interessante c'è. O perlomeno qualcosa deve aver attirato l'attenzione di chi ha visto questi video. Attenzione che si è amplificata negli ultimi giorni perché è stato annunciato l'attore che interpreterà Dragon. Se prima doveva essere Osè Maria Yatspik, che aveva partecipato alla serie Narcos su Netflix, è stato poi annunciato un altro attore in realtà. Ed è Dane o Dean Damons, che diciamo ha scatenato un po' di polemiche perché c'è l'attore che interpreta Garp, che dovrebbe essere inglese, c'è Luffy che è brasiliano e c'è questo attore che è sudafricano e quindi ha un po' la gente storto il naso. E c'è invece chi ha detto ma non è che un indizio di Oda che ha monitorato un po' tutto per dire guardate che non sono legati a livello di parentela. Io qua non voglio neanche metterci bocca sulla scelta del film e degli attori perché davvero non sappiamo cosa ci può essere dietro. Però l'argomento che Dragon non possa essere figlio di Garp ha ancora senso e vi spiego perché. I due argomenti che si utilizzano per cercare di smontare questa teoria sono due argomentazioni sbagliate perché si cita la taglia e ma si hanno lo stesso cognome nella taglia. Stessa cosa però è successa per Ace che ha cambiato il suo nome nella taglia. A Roger gli è stata tolta la D. Ci sono delle situazioni di modifica del nome e quindi perché non potrebbe averla modificata anche Garp dandogli il suo nome per un certo motivo? Ma possiamo anche andare oltre perché comunque tu puoi acquisire il cognome anche se non sei figlio diretto. C'è un esempio palese. Dragon sposa la figlia di Garp, Dragon magari è orfano, la figlia di Garp no e allora prende il cognome della moglie. È cultura giapponese ma anche in Europa queste cose succedono quindi non è una cosa così clamorosa. L'altra argomentazione riguarda il fatto che nel manga non sia mai stato detto perché chiunque pensa che a Marineford questa cosa sia stata detta rileggetevelo tutto non troverete mai qualcuno che dice in modo diretto Garp è padre di Dragon. Si cita sempre Luffy figlio di Dragon o Luffy nipote di Garp. Non c'è mai questo collegamento diretto. L'unica volta in cui viene detta una certa frase sei figlio di mio figlio ricordatelo è Garp che lo dice a Luffy. Ma sin dai tempi è stato spiegato che c'è un problema di traduzione perché comunque giapponese non è sempre preciso nel maschile femminile e quindi potrà essere sei figlio del mio sangue. Punto. Che potrebbe essere effettivamente la mamma. Io il video teoria l'avevo fatto ve lo lascio qua per chi vuole ritornerà a vederlo e avevo anche inserito il fatto che Shanks fosse figlio di Draghi Celesti quando tutti dicevano che Shanks era il figlio di Xebek. Vabbè è qua ma non è questo lo scopo del video. Torniamo a God Valley. Noi di Dragon ad oggi sappiamo che il capo dell'armata rivoluzionaria è che l'uomo più pericoloso è ricercato dal mondo, dal governo e allora io mi chiedo ma perché? Perché lo è? I ricercati più importanti e più pericolosi non dovrebbero essere i pirati più vicini al One Piece ed oggi il pirata che possiede il frutto di J-Boy cioè Luffy? E quindi allo stesso tempo la domanda e la risposta sono ma quali segreti conosce Dragon che fanno così tanto paura al governo? Uno potrebbe rispondere vabbè ma semplicemente lui vuole far cadere l'istituzione dei Draghi Celesti quindi è la cosa più pericolosa che si possa fare però noi da sempre o comunque da sempre si dice che chi arriverà al One Piece è ipoteticamente Luffy e si pensa Luffy farà cadere il governo quindi qual è la differenza? Gli ultimi capitoli ci hanno fatto capire come Dragon molte cose o comunque alcune cose importanti le sa ad esempio i Cavalieri di Dio la loro esistenza e la loro funzionalità e addirittura il fatto che finché loro non si muovono non inizia la vera guerra e di queste figure noi non ne avevamo mai sentito parlare tranne che da Akainu e Cavallo Nero Black Horse che sono comunque parte dei vertici della Marina e poi ovviamente li conoscono i Draghi Celesti Gorosei e Im quindi comunque persone di altissimo rango nel mondo governativo nel mondo di One Piece e allora qua dobbiamo riproporla la domanda e quindi chiederci perché è l'uomo più pericoloso e ricercato al mondo e qua il ragionamento è molto particolare ma ha senso adesso capirete perché mettiamo che lui sa dei cavalieri sapere dei cavalieri è una cosa pericolosissima va bene però il governo deve sapere che lui sa e quindi lui deve sapere che il governo sa se no il gioco non vale perché non puoi dire quello è pericoloso se non sai che sa avete capito no ma io penso che ci sia ancora qualcosa di più c'è uno step in più che Dragon conosce e che il governo sa che Dragon conosce e l'unica risposta plausibile ad oggi è la sua presenza a God Valley senza quella presenza lì non si potrebbe ad oggi rispondere a quelle domande e la cosa da chiedersi e da ipotizzare è in quale veste era presente su quell'isola ai tempi di quella battaglia lui aveva 17 anni quindi dobbiamo comunque fare delle ipotesi attuabile a un ragazzo di 17 anni e ne possiamo pensare a quattro la prima è che fosse un marine comunque non di alto grado perché a 17 anni al massimo puoi essere capitano di fregata o addirittura di vascello se sei davvero talentuoso ma comunque era presente in quella battaglia ha visto qualcosa e magari da quella battaglia ha deciso di abbandonare la marina e prendere un'altra strada e abbiamo visto come in One Piece a 17 anni se è bello che è indipendente puoi prendere il mare e crearti una ciurma o magari lui non se ne è andato subito ma se ne andò più avanti quando addirittura raggiunse un grado più alto dentro la marina e quindi il fatto che lui partecipò a quella battaglia il fatto che lui fosse comunque un marino importante lo ha reso uno dei uomini più ricercati e pericolosi al mondo la seconda è che si trovava lì in veste di figlio di rock di xebec era nella nave con lui era stato rapito dal governo era stato rapito dalla marina non importa era lì ed era il figlio di xebec e noi sappiamo come garpa abbia la passione di auto di adottare la gente i bambini e figli degli altri quindi anche se aveva 17 anni comunque chissà che cosa è successo là dentro e direi che sanno che sei il figlio di xebec sanno che hai partecipato a god valley è vero che garpa ti ha fatto un attimo da garante però quando hai deciso di diventare un rivoluzionario andare contro il governo ecco che scatta la scintilla e dicono e no tu non puoi essere più coperto anche se c'è garpa a difenderti ormai sei il più ricercato al mondo la terza ipotesi che mi viene in mente è che magari era lì a god valley come schiavo magari era uno schiavo dei draghi celesti che è riuscito a fuggire magari adottato lagarp o comunque sì ci può stare e niente lui sapeva roba era là hanno scoperto che lui era là e quindi va eliminato la quarta è molto strana e particolare ma sarebbe molto interessante e che fosse un drago celeste e che lascia god valley per motivi familiari magari era parente di garp davvero magari era figlio di garp perché magari gira questa teoria comunque che la nonna di luffy potesse essere un drago celeste quindi perché no c'è solo da capire perché shanks figlio di figureland lo fai entrare in casa tua e dragon invece lo bracchi e lo categorizzi come il più pericoloso al mondo certo shanks probabilmente sta collaborando tramite un accordo e dragon li vuole buttare giù e ci starebbe proprio il collegamento in realtà con i cavalieri di dio e un loro scontro il traditore dei draghi celesti che aiuta gli schiavi liberi agli schiavi che combatte contro quello che i draghi celesti dovrebbe giustiziare ma è fanta one piece questo ovviamente adesso mentre sto girando il video mi è venuto in mente che una soluzione esterna ci potrebbe essere ed è addirittura quella che portai nel mio primissimo video qua su youtube ve lo lascio qua se avete il coraggio in mane di andarvi a vedere quello scempio dragon era un marine era un marine arrivato ad alti livelli poi lasciò per motivi che poi un giorno scopriremo anche perché noi sappiamo che lui faceva parte dell'organizzazione della liberazione una roba del genere se non ricordo perfettamente il nome e quindi chissà che tipo di organizzazione era chissà come ci è arrivato quindi stiamo qua a scoprirlo però god valle la sua presenza la quoto bene la quoto bene fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo nei prossimi video